Era andato in bagno dicendo di sentirsi male, al suo rientro in classe ha perso i sensi e di lì a poco non c'è stato più niente da fare. Tommaso Bisciari aveva 14 anni, frequentava il primo anno dell'istituto Livetti di Fano e il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, 24 settembre, intorno alle ore 9. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari della 118, Tommaso purtroppo non ce l'ha fatta. Strazianti le parole del padre che racconta di come il giovane aveva una malattia cardiaca congenita e per questo necessitava di trapianto al cuore. Era in lista d'attesa al Sant'Orsola di Bologna da ormai due anni. I medici gli avevano detto di rimanere pronti per essere chiamati in qualsiasi momento. Una telefonata che però non è mai arrivata e adesso per Tommaso è troppo tardi. Al dolore della famiglia si stringono istituzioni e autorità. L'abbraccio del sindaco di Fano, Lucas Erfilippi, quel nastro nero sui social per testimoniare il cordoio di una comunità intera.